Autonoma sistemazione per chi ovviamente lo chiederà, parliamo vice sindaco Blasioli dei 236 inquilini degli stabili di Via Lago di Borgiano che sono stati sgomberati nei giorni scorsi. Una notizia importante per queste persone che sono costrette ad affrontare grosse problematiche? Sì, senza affrontare il problema del numero delle persone che c'erano perché il contributo di autonoma sistemazione è un contributo che viene riconosciuto non solo ai residenti ma a chi di fatto autocertifica di essere in quegli immobili quindi potrebbero essere anche qualcuno di più, per esempio l'autonoma sistemazione è riconosciuta anche le badanti che seguivano degli anziani che sono in quegli immobili. Le 84 sono le famiglie che sono interessate da questa emergenza di Via Lago di Borgiano e l'autonoma sistemazione è una misura che sicuramente crea un sollievo a queste famiglie che potranno quindi andare in appartamenti e questi appartamenti a secondo della composizione del nucleo familiare avranno un corrispettivo per pagare il canone di locazione. Ma il contributo di autonoma sistemazione garantisce anche alle famiglie di non scegliersi un altro immobile ma di continuare a stare negli alberghi purché siano alberghi convenzionati con la protezione civile regionale. In questi giorni la protezione civile regionale sta convenzionando gli alberghi dove sono stati ospiti queste famiglie pescaresi il che significa che a seguito della formalizzazione di queste schede AIDES anche il comune di Pescara avrà il ristoro delle 200 mila euro messe in bilancio per la copertura di tutti i costi sostenuti dall'ordinanza del 4 di luglio fino al 30 di luglio. I costi dunque saranno sostenuti dalla protezione civile? Saranno sostenuti dalla protezione civile regionale perché è stato rilevato un nesso di casualità tra il terremoto dell'ottobre del 2016 e questi danni strutturali. Le schede AIDES sono state affidate a degli agibilitatori del CNR incaricati dalla protezione civile regionale che le hanno classificate nella classe E. Anche se le avessero classificate nella classe B queste famiglie erano tenute ad uscire delle abitazioni. Questo ci fa capire quanto complesso era la situazione di questi immobili e quanto bene abbia fatto il sindaco di Pescara a firmare l'ordinanza nottetempo appena ricevuta la comunicazione dell'Ater.